Hola gamers e benvenuti in un nuovo video di sabato Sì, un video di sabato, un video speciale Sabato uguale video speciale In questo video andremo a fare battaglie epiche con Bea Che ho trovato esattamente oggi Ok, possiamo iniziare Direi di iniziare proprio da Food Brawl E quindi partiamo Solo per informazione, Bea non è assolutamente nuova Solo per dire, ho detto un nuovo brawler Perché l'ho appena trovato Eh, no, non bene Niente, non è Non ce la possiamo fare Dai Non ce la possiamo fare No No Non ci credo Dai Che schifo Beh, non è possibile Ma proprio Niente Non è possibile Allora, proviamo Non è possibile ehehehe no 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 sick ehehehe ehehehe Sto mettendo le battaglie esaurite Sì, direi di farci un'altra partita Sì, direi di farci Si, direi di farci Come? Sì Ma perchè l'ango poi? Sì, sì, vediamo cosa ronza! Oh, sì! non ci credo vabbè noi ci vediamo ad un prossimo video ciao